Pesce cerca l'imbucata per Vallarella, Vallarella controlla, pressato da Bottone, non c'è fallo, il contropiede di Amosportiva, attenzione a Bottone che tira violentemente giù Edoardo Melosi. E prende il secondo giallo e quindi il rosso, dopo l'intervento deciso di Edoardo Melosi a recuperare il pallone non c'è stato il numero 4 che viene giustamente espulso per la reazione decisamente negativa, cosa molto brutta da vedere sui campi di calcio.